Benvenuti tutti al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, siamo in produzione di Madame Butterfly di Giacomo Puccini. Il lavoro che abbiamo fatto è stato molto incentrato su questo gioco di sinestesie, ovvero cercare attraverso i suoni, attraverso la musica di coinvolgere tutti i sensi, perché è quello che credo che lui abbia voluto donarci attraverso questa partitura, quindi colori, sensazioni, profumi, tutto questo coinvolgimento sempre al fine di toccare quelle corde dell'anima che sono così fondamentali, soprattutto in un momento storico come questo. Ed è proprio quello che abbiamo cercato di ottenere insieme alla regia di Chiara Muti. Vi invito tutti a venire a vedere, a sentire e a percepire questa opera perché ci possa ridonare quel senso di umanità e di coinvolgimento emozionale che abbiamo tanto bisogno. Grazie 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 Grazie